Nel prossimo fine settimana arriveranno in Italia freddo e pioggia ponendo fine all'estate risolvendo il problema della siccità che da mesi ormai attanaglia alcune regioni italiane. Secondo il colonnello Giuliacci, già a partire da giovedì sera, 15 settembre inizierà un brusco calo dalle temperature al centro nord e da 16 anche al sud ed isole con temperature che scenderanno entro il 18 settembre a 20-23 gradi al centro nord, 23-25 gradi al sud e Sardegna, 27-30 sulla Sicilia. Per quanto riguarda le piogge l'Italia nei prossimi 10 giorni verrà raggiunta da due perturbazioni atlantiche, ha spiegato Giuliacci, la prima dal 15 al 17 settembre la quale sarà piuttosto intensa con rovesce temporale al centro nord. Il 17 settembre si estenderanno anche al sud. Le uniche regioni che saranno risparmiate saranno Piemonte, Puglia, Sardegna. La seconda perturbazione arriverà il 19 settembre con pochi rovesce temporali anche su Emilia Romagna, centro Sicilia.